Una matata ragazzi ragazzi e ben Ben ritrovati dal vostro ciccio gamer89 Siamo tornati in un nuovo video Su colento di fortnite Subito un bel pollicione in su Codici credore ciccio gamer89 Se mi volete supportare Ciao potresti usare per favore il demo gorgone Grazie mille lo stesso Ma che problema ci avete col grazie mille lo stesso Ed eccolo qua Quindi ragazzi vi voglio ricordare sempre che nel negozio Oggetti qua sotto potete inserire il codice Ciccio gamer89 se mi volete supportare Ci andiamo a fare una non classificata Quindi paracaduti sulle spalle let's go E vi ricordo che spesso e volentieri 6 volte su 7 Mi trovate in live dalle ore 20 e 30 Su questo canale youtube in live Vi aspetto Voglio fare qualche partita con qualche killetta Perché se no I più malfidati Mi vengono a dire Eh ma tu Tu fai le kill Posso dire questo pompa Ma neanche Chi ha inventato fortnite Lo gioca E il gioco ovviamente Me ne da un altro Dicono è perché tu giochi Ne serve quelli Ne serve quelli Eh non è proprio così Non è proprio così Comunque questo pompa È orribilante E lo sappiamo Quindi facciamo così Io ci provo ad attaccare Con questo pompa Regà ma veramente È una roba che Non ci ho mai fatto una kill Ragazzi Ah che carino Che sei Sei proprio sicuro Di farcela Quindi Beh sì Sarei anch'io sicuro Di farcela Ah regà Io non Non lo prendo Regà È impossibile Ah bro Ma hai rotto I tre quarti Se posso dirlo Regà Prima di andare A fightare il tipo Devo di per forza Ecco fatto Regà Ok Io ce provo Ragazzi ma Io non so dov'è Io 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 vabbè Forse così sto un po' meglio Cioè ve lo dico già Oh regà Io vi giuro questo Vi giuro regà Questo qui Mi dà un nervoso Ma è Un nervoso Nervoso Cioè non è un nervoso Piccolo È veramente Ci potrei crepare Senza problemi Non rendo conto Cioè lui si sente Anche forte Capito Caccio Ah godimento Dai Ah Che soddisfazione Mamma Mia Ragazzi Qua chi non lascia Like È perché è una persona Che non è Che non si è soddisfatta Ma se siete soddisfatti Pure voi Di quello che è appena successo Like lo lasciate per forza Per forza Vediamo se riusciamo A prendere il cavo Queste non lo aprono Di poveri Di poveri Giag Giag Queste Sciocchezzuale qua L'hanno già aperto L'hanno già aperto Raga Uno l'ho visto Uno l'ho visto Sempre un po' Too much Secondo me Anche perché questo è No regà Quanto 14 di vita L'avevo preso Non era male Non era male Dai facciamocene un'altra Senza problemi Pazienza Ci si riprova Ci si riprova Anche perché non è che a me piace Farvi vedere Che vinco e basta Cioè perché Non è così Ovviamente Anch'io come voi Soffro Per portarmi a casa Qualche bella Partita Ragazzi veramente Questa arma È ridicola E io mi immagino Voi che dite Sì però L'hai ucciso È vero È vero È vero Ma con l'ultimo colpo Quindi non è che è stata Una Una kill così incredibile Bello Ho trovato sta ceffa De ming Regà So che c'è qualcuno qua Ok Perfetto Appena detto eh Mi stanno seguendo Secondo voi Sì Ed è così arrabbiato Sì Lui lo sa che io posso volare L'infinito qui Cioè lui se ne rende conto Secondo me no Tanto sta arrivando qua Bro io posso veramente stare così Due giorni e mezzo Senza problemi È veramente Difficile Questa partita Veramente Veramente Difficile Non so Regà Io Regà Niente Tu devi Penso di Essere Mortissimo La pazienza Ok Fanculo Ragazzi Annazza Annazza Mai giocare il pomeriggio Io Continuo a giocare il pomeriggio E vi dico sempre Non giocate dalle 15 E 30 Fino alle 16 e 30 O giù di lì E io puntuale Adesso sono le 15 e 59 Sto a giocare Perché regà Stanno tutti a giocare Anche quelli che non vivono E che Fortnite è diventato Ehm La 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 Punto di sfogo Principale E Diventano lobby Abbastanza Complicate Ci può stare Allora cerchiamo di fare Il landing Alla Questo lo prendo per toglierlo Mica per altro E Questo lo prendo per toglierlo Non ho capito se ha aperto No non ha aperto qui Ok Sentite Con calma Allora State calmi Io non ho capito se C'ho sempre paura Che mi arriva qualcuno Da dietro Regà Sempre Ok Facciamo di questo Ok Facciamo di questo Questo lo apriamo Mamma mia Guardate i bot Mi hanno spaccato Ragazzi I bot Mi hanno spaccato Sperando che non venga nessuno In questo momento Che me prendo Regà Non c'è niente Che possa Valere la pena Cioè non c'è Veramente niente Allora A sto punto Facciamo così E facciamo così Io non lo attivo Io non lo attivo Regà Io non lo attivo Conquistare il cavo Praticamente Per non avere niente È incredibile Io non so se Ma porca miseria Ma dai mamma Neanche a di che C'ho sta mira E lei Ok penso stia sopra Esatto Che vuoi fare così In tranquillità Giusto Giusto Mirche Hai fatto Sto provando a Rimanere in vita Ma Sono belle lobby Sono belle lobby Sono molto belle Come lobby Questo c'è da dirlo E per lobby belle Intendo proprio Gente che spara Regà Ho visto uno a destra Sto senza vita Sto senza niente Ci vorrebbe Esattamente questo Vai 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 Facciamo così Regà Ci voleva Esattamente Questa qua Però dai Secondo me è pure più bello Che vedete Roba un pochino Più complicata Ci può stare Io l'avevo visto Tipo Da Queste parti Ma ipoteticamente Il tipo può essere Andato ovunque Quindi Io ritornerei Sui nostri passi E vedrei Se Tante volte Sempre lui Sto giro Ha deciso Di Andarsene Questo qua È quello di prima Ragazzi Io non riesco a salire Perché sono una Pippa di merda Eh ma questo V'ammazza Regà Invece no Perché Perché mi sono lamentato Di me stesso E invece ce l'ho fatta Funziona sempre Però capite che Sono partite Particolarmente Cattive Perché già siamo Rimasti in 30 Regà Cioè 31 Siamo pochissimi Quindi regà Mi raccomando Un bel pollicione In su Per il vostro ciccio Camera 89 Io ve lo dico Perché se no voi Vi dimenticate Non lo fate apposta Lo so perfettamente Qui ovviamente Hanno preso tutto Quello che devono prendere Eh la pizza Una sola pizza Ci sta Secondo me No Secondo me No Qui è comunque Un rischio Enorme Qua è un rischio Enorme Ragazzi Decisamente Simir Che Meglio Io carico Perché Non si può Mai sapere Facciamo così E facciamo così L'ultima volta Che ho fatto così Ho perso Sì ma Secondo me Non voglio dire Ma Così La sensibilità Secondo me Questa La devo diminuire Di un Di un Ma veramente Di una Uh Questo non è male Regà Questo non è male Secondo me È più forte Quello Di Del Del Jug Cioè Capito Dello slurpone No Secondo me Però Non è sufficiente Per attaccarlo A mio avviso Adesso Decisamente Sì Mamma mia Ragazzi Quanto è lento Regà Veramente Troppo Lento Bello Questo La combo Scopa Pumpa O Pumpa Scopa Non va bene L'ho preso Il perk Quello là Del salto Regà Che è Fortissimo Che è Fortissimo Ok Proviamo A capirci A capirci Qualcosa Mi sa che l'ho visto Dovrebbe essere là Questa fa male Io avrei Rusicato Un bot Peccato Dovrei andare A aprire Probabilmente Quella lì Ragazzi C'è un Cecchino Potrei Infazzire Ragazzi Io però Ero Dietro Regà Io ero Dietro Il masso Ed è riuscito A farmi A farmi Una Cecchinata Incredibile Io penso Io penso Uno dei shit Ho un'idea Secondo me Ci sono Le hitbox Un pochino Rotte Secondo me Va bene Signori Che vi devo dire Vi voglio bene Al prossimo appuntamento Ciao Regà Ciao